Se il superamento della fatidica linea rossa all'uso delle armi chimiche contro la popolazione dovesse venire confermato, la strategia americana in Siria sarà rivista. Vuol dire che dal sostegno finora non bellico alle forze dell'opposizione anti-Assad, Washington passerebbe al vero e proprio invio di armi e rifornimenti ai ribelli. Razzi anticarro più efficaci, ma soprattutto i missili portatili anti-aerei per eliminare il vantaggio in cielo delle forze armate regolari siriane. Quanto alle forze di terra americane in Giordania c'è già un contingente di circa 400 soldati, ma di un intervento diretto dopo l'Iraq e con la campagna afghana ancora da smantellare, l'opinione pubblica statunitense non vuol sentir parlare. L'annuncio di una minacciata svolta della Casa Bianca nell'approccio alla guerra civile siriana, due anni di combattimenti e, dice l'ONU, 70.000 morti, Barack Obama l'ha dato ieri. Per la prima volta abbiamo le prove che in Siria armi chimiche sono già state usate, ha detto, ma dobbiamo chiarire come, dove e soprattutto da chi. Una mossa di preparazione per la comunità internazionale. A giugno Obama incontrerà Vladimir Putin e prima del vertice col presidente russo, sponsor storico del regime siriano. La nuova linea dura contro Assad dovrà essere definita nel dettaglio e pronta a scattare. Abbiamo chiesto alle Nazioni Unite di indagare sul campo, ha ricordato il presidente americano. La missione delle Nazioni Unite è pronta a partire, non avrebbe però avuto il via libera da Damasco. Falso, ha denunciato ieri l'ambasciatore siriano al Palazzo di Vetro. Siamo stati noi per primi a chiedere, senza risultato, che l'ONU indaghi sull'uso di armi chimiche ad Aleppo il 19 marzo scorso. Ieri intanto l'aviazione del regime ha bombardato un campo profughi al confine con la Turchia, mentre in piano centro, nella capitale siriana, l'ennesima autobomba ha fatto 13 morti e più di 70 feriti. Una delle zone dove gli scontri sono più violenti è la provincia di Oms, da dove il 9 aprile è arrivata l'ultima telefonata di Domenico Quirico, l'inviato della stampa del quale non si hanno più notizie da tre settimane. Il reporter era tornato per la quarta volta in Siria attraversando il confine libanese.